Bene, benvenuti in questa lezione vediamo una seconda parte sul rigging quindi cerchiamo di mettere un po' frutto quello che abbiamo visto la volta scorsa cercando di farlo in un modo molto semplice con un libro, una copertina di un libro con il suo dorso che si apre e applicheremo quindi due o tre osse per vedere come riusciremo a rigare cioè a far muovere in un'animazione questo libro allora per fare questo facciamo un piccolo premesso di building quindi andiamo cancellando il nostro oggetto cubo e poi andiamo quindi magari dove diamo user preferences andiamo a dons, screen mettiamo i tasti così non mi dite che non si vedono ok quindi i tasti li abilitiamo quindi vedete qua i tasti che io premo ok? allora adesso qui facciamo che inserire semplicemente cioè cerchiamo di modellare una copertina di un libro lo facciamo in maniera abbastanza semplice cioè quindi costruiamo un piano il piano lo vediamo dall'alto 7, ci avviciniamo un pochino lo estendiamo un pochino orizzontalmente magari in facciamo in edit mode e lo estendiamo ecco ho premuto control per riuscire a delinearlo a tre quindi facciamo una specie di album tipo fotografie e poi ecco su questo album cerchiamo adesso di aggiungersi degli edge loop verso i bordi per poter modellare un po' di beveling questa è una delle tante tecniche che si possono fare per modellare per farlo un po' bordato quindi per farlo sempre in edit mode dobbiamo fare control r e poi ci mettiamo su un lato non appena siamo lì vedete che compare ortogonalmente una linea viola a quel punto lì la pigliamo cliccando col tasto sinistro e poi lo portiamo verso un'estremità ok e poi clicchiamo ancora poi facciamo control r stesso mestiere e lo facciamo verso l'altra estremità clicchiamo poi control r questa volta facciamolo ecco sull'ultimo cosa che abbiamo visto ok clic control r e lo facciamo così ok questo è un modo per ammorbidire gli angoli adesso lo vediamo perché la tecnica prevede di mettere alcuni modificatori quindi il primo modificatore serve per trasformare questo piano che non ha dimensioni in una cosa tridimensionale quindi questo lo si ottiene con un modificatore che si chiama solidify solidify qui possiamo mettergli una certa solidificazione tipo 10 e vedete che diventa un po' più spesso però vedete che è ancora dunque i bordi non sono belli curvetti come ci piacerebbero e quindi aggiungiamo un altro modificatore che è il subsurf che questo ammorbidisce gli spiccoli vedete che già così otteniamo un buon lavoro a questo punto la copertina potrebbe già essere pronta e quindi ricordiamoci di andare in object mode e di applicare il modificatore quindi applichiamo prima il modificatore questo di solidify e poi quello di subsurf e a questo punto abbiamo tutte le vedete che abbiamo un numero abbastanza piccolo di vertici quindi va abbastanza bene problemuccio è che vedete che vediamo le facce in maniera un po' spigolata per ovviare questo inconveniente è sufficiente impostare lo shading al smooth poi ecco una cosa che forse mi sono dimenticato ieri di dire le lezione controlliamo sempre le normali al discorso le normali ho fatto un sacco di video per illustrarle ma c'è sempre qualcosa che sfugge quindi per controllare le normali andiamo in edit mode andiamo qua dove parliamo di eccolo qua quindi siamo sotto mesh display e abilitiamo la visuale delle normali sulle facce se l'oggetto è fatto bene vedete che tutti i capelli eventualmente li allunghiamo escono verso l'esterno se vedete alcune facce da cui non escono capelli azzurri vuol dire che le normali sono sbagliate dovesse mai capitare una cosa del genere quindi proviamo a selezionare una faccia e in questa faccia le normali supponiamo forziamo le sbagliate vedete che qui c'è normale flip direction ecco questa è una faccia da cui non escono normali e vedete quindi è strana rispetto alle altre facce e questa faccia verrà visualizzata trasparente per aggiustarla basta che si selezioni questa faccia e poi si fa la flip della direction l'opposto di quello che ho fatto prima oppure alternativamente si selezionano tutti i vertici e si prova a fare il recalculate allora il recalculate di solito per oggetti convessi funziona nel senso che cerca di fare in modo tale che tutte le facce guardino verso l'esterno ok allora questo è un piccolo ripasso diciamo di modellazione elementare togliamo la visualizzazione delle normali andiamo di fronte togliamo la visualizzazione prospettica quindi premiamo 5 quindi lo vediamo in modalità orto normale e a questo punto in object mode ok facciamo ancora soltanto l'aggiunta del materiale ok allora l'aggiunta del materiale lo facciamo allora facciamo le cose proprio per benino quindi in edit mode ancora facciamo così e e gli facciamo ancora la UV map allora la UV map possiamo anche farne una tra le più semplici ma solo per ricordarvi che la UV map va sempre fatta quindi possiamo fare ad esempio la beh questo qui sarebbe tipo un cubo quindi se è assimilabile a un cubo di solito la cubo projection dovrebbe andare per vedere se va bene andiamo effettivamente a vederla nelle nostre UV image editor e direi che potrebbe anche funzionare ok adesso noi non sfrutteremmo questa cosa adesso in questo tutorial ma solo per ricordarvi che la UV map va sempre fatta ok quindi quando inserite un materiale ricordatevi di mettere sempre almeno una UV map e nel caso di second life esattamente una ok allora torniamo al nostro in object mode andiamo nel materiale e qui aggiungiamoci un materiale che chiameremo plastica serve la copertina un po' plasticosa la facciamo di un colore per esempio tipo blu un blu un po' chiaro gli mettiamo magari qui possiamo dire che riflette di più insomma possiamo elaborarlo un po' e per vedere come verrebbe questo oggetto abbiamo sempre il discorso di fotografarlo quindi F12 ci fa vedere come verrebbe la luce vedete qui di solito si preferisce avere una luce di tipo EMI questa che illumina in questo modo in questo modo con F12 vedete che l'illuminazione è un pochino più uniforme un pochino leggermente più naturale poi di solito per fare una bella scena si dovrebbe mettere ancora una base ma per il momento lo lasciamo quindi adesso abbiamo riesplorato appunto tutti questi principali meccanismi di modellazione quindi qui cancelliamo la cosa aggiuntiva e andiamo a cercare di completare questo libro ipotetico quindi ci avviciniamo selezioniamo il nostro la nostra copertina ecco una cosa importantissima che conviene fare è chiamarla questa qui diciamo che è la copertina sul retro quindi chiamiamo retro chiamiamolo ok chiamiamo sempre dei nomi dei nostri oggetti poi questo oggetto lo duplichiamo con shift d e poi x per spostarlo e poi lo accorciamo sx in modo tale che sia tipo la costa che sta sul nostro sul nostro libro ecco quindi abbiamo fatto praticamente la costa e cerchiamo di incollargiela un pochino vicino ok quindi messa abbastanza vicino magari non troppo ok a questo punto abbiamo la costa il dorso il dorso lo chiamiamo dorso qua sull'item quindi chiamiamo dorso e poi duplichiamo con shift d questo poi prendiamo x e lo duplichiamo per fare la copertina frontale ok e questa qui la chiamiamo fronte quindi abbiamo il fronte il dorso e il retro e fin qui abbiamo il nostro bel libretto f12 ce lo fotografa eccolo qua ed è tutto bello disteso ora il nostro obiettivo invece è quello di riuscire a ricarlo quindi metterci delle ossa quindi qui dunque a lezione ne abbiamo messo due di ossa una qua e una qua poi però abbiamo visto che facendo in questo modo mettendo solo due ossa l'export poi su second life in alcuni casi dava dei problemi quindi adesso in questo video proverò a mettere le tre e vediamo se funziona meglio quindi la vediamo dall'alto 7 sempre in object mode e inseriremo un'armatura che sarà quella con le tre ossa che ci interessano quindi noi andiamo facciamo shift A e aggiungiamo la nostra armatura con il nostro osso ok ora l'osso che vedete se lo vediamo in prospettiva vedete che in realtà non è direzionato giusto quindi lo dobbiamo ruotare attorno l'asse verde vedete che quello è l'asse verde dobbiamo ruotarlo di 90 gradi verso il verso di qua quindi proviamo facciamo R Y 90 e che non è quello che volevamo perché noi volevamo che la coda fosse dall'altra parte perché vogliamo poi fare in modo tale che qui inizia la testa coda poi qui ci sarà testa coda testa coda fare i tre ossi quindi possiamo anche annullare e poi fare R Y e poi possono dirgli meno 90 ok e l'abbiamo fatto giusto ora guardiamo bene quest'osso da di fronte se sente andiamo in edit mode quindi qui andiamo in edit mode selezioniamo la testa e la facciamo andare fino al termine naturale dopodiché prendiamo la coda la punta della coda la estendiamo e X e facciamo estendere praticamente l'osso fino a questo punto con questa coda e poi facciamo X e facciamo l'ultimo osso che arriva in fondo ok quindi abbiamo praticamente fatto una sequenza di tre ossa vedete che qui tra l'altro si vede un po' maluccio ed è il motivo per cui a volte queste ossa si cambia e qui innanzitutto vedete che quando entrano dentro il libro non si vedono più noi andiamo in modalità object mode del nostro armatura i nostri tre ossicidi andiamo nella clicchiamo qui dove dice il punto armatura e facciamo X-ray in modalità da vederlo anche come fossero ai raggi X e magari usiamo stick questo o B-bones per vederli per vedere le tre ossa vedete che sono U questo qui è molto neutro invece gli octaedri sono un pochino più voluminosi ora ricordiamoci che il modo in cui gireranno queste cose qua girano tutti attorno alla propria alla propria testa quindi se questo gira attorno alla sua testa si trascinerà tutta la coda ok quindi in questo momento noi abbiamo una rotazione di questo tipo se noi volessimo che invece ruotasse in maniera diversa dovremmo invertire questo cioè praticamente se volessimo ruotare tutti attorno al dorso dovremmo invertire la posizione di questo osso e questo si può fare comunque adesso otteniamolo così ok allora il passiamo al rigging cioè rigging cosa vuol dire vuol dire prendere in object mode le nostre mesh quindi prendiamo questa mesh e poi selezioniamo con lo shift tasto destro l'armatura e facciamo ctrl p lo imparentiamo proviamo a vedere un attimo se funzionasse magari tutte e tre insieme e poi clicchiamo l'osso dell'armatura e facciamo ctrl p with automatic weight ci abbiamo cliccato le tre le tre mesh e poi tutte e tre insieme le imparentiamo all'osso non è detto che funzioni comunque verifichiamo allora se funzionasse cosa dovrebbe capitare dovrebbe capitare che andando in object mode cliccando il nostro l'armatura l'armatura a questo punto possiamo andare in pause mode e poi possiamo ruotare attorno all'y e vedere ry e vedere se funziona e in effetti vedete che funziona la rotazione di questo osso mi sta ruotando tutte e tre le mesh bellissimo se funzionasse possiamo cliccare anche l'osso questo centrale e possiamo fare ry e vedere se fa ruotare e vedete che lo fa ruotare anche se devo dire che comunque la rotazione produce delle anomalie questa rotazione vedete che quando è così ci avviciniamo vedete che sta ruotando in maniera strana nel senso che sta ruotando sta avendo un effetto un po' strano su questo dorso e adesso andremo a vedere appunto come correggerlo tutto ciò ctrl z proviamo comunque a fare anche l'ultimo test di ruotare ry questo e vediamo che anche in questo caso abbiamo un effetto strano cioè praticamente dei tre offsi uno che è il primo quello lì sembra buono questo qui invece ci dà dei problemi e quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo correggere quelli che sono i pesi e per correggere i pesi dobbiamo innanzitutto vederli questi pesi quindi dobbiamo avere un modo di visualizzazione dei pesi allora per farlo beh innanzitutto possiamo avere queste osse un po' meno intrusive dicevamo object mode mettiamo mettiamo vediamo se questo è un po' meno intrusivo ma proviamo questa modalità di visualizzazione qua delle ossa ok sembrano un pochino più cose e andiamo questa volta però a selezionare il nostro la nostra mesh eccola qua la mesh e cerchiamo di vedere gli effetti delle tre ossa su questa mesh cominciamo magari dalla mesh più semplice quella che abbiamo visto che probabilmente era a posto quindi in object mode andiamo in questa mesh essendo che la mesh è stata imparentata con uno scheletro a questo punto c'è la possibilità di farci il white paint quindi clicchiamo su white paint e vedete che è diventata tutta blu tutta blu vuol dire che non è affetta da che cosa ah ecco qui c'è un piccolo cosa che dobbiamo ancora mettere a posto quindi torniamo ancora a monte andiamo nella nostra armatura nella nostra armatura in edit mode selezioniamo le singole ossa quindi questo qui diciamo che l'osso che dovrà pilotare la parte frontale e quindi andiamo qui e nel nome mettiamo osso underscore frontale frontale nel senso che è proprio quello che pilota la parte frontale poi selezioniamo l'osso centrale che è il dorso e quindi diciamo che è questo osso del dorso poi selezioniamo l'ultimo pezzo questo e lo chiamiamo invece osso retro ok allora proviamo a vedere adesso mi sa che dobbiamo rifare l'imparentamento quindi questa nomenclatura delle ossa doveva essere fatta fin da subito in teoria perché se noi andiamo torniamo nel nostro retro ah no già rinominato le osso è stato bravo quindi non dobbiamo ero convinto che si portasse dietro il nome vecchio nel caso si rifà l'imparentamento non c'è nessun problema allora l'allarghiamo un pochino e vediamo che quindi questo signore dipende da tre ossa cioè può dipendere da tre ossa in realtà questi sono vertici gruppi di vertici associati ad ogni osso quindi ovviamente l'osso frontale quando gira non deve non deve interferire sulle posizioni di questo coso e in effetti questo lo vediamo in modalità weight paint è tutto blu tutto blu vuol dire che non ha effetto ed è buono l'osso dorsale anche non dovrebbe avere effetto su questo coso qua buono ottimo quindi questo è rigato bene l'osso retro invece deve avere il massimo effetto e in effetti vedete che è tutto rosso tutto rosso vuol dire che ha il massimo effetto quindi questi colori qui vanno dal rosso al blu quindi rosso vuol dire che ha il massimo effetto blu vuol dire che non ha nessun effetto e va bene questo qui quindi ci piace è buono andiamo invece sul dorso abbiamo visto che sul dorso ci aspettiamo di vedere un po' di anomalie allora andiamo in modalità weight paint su questo signore e vediamo che associato all'osso frontale ci sono in realtà già delle cose da dire nel senso che non è proprio completamente blu il fatto che non sia vedete che qui c'è una zona un po' più blu ma qui c'è una zona leggermente più chiara anche se poi uno non lo vede chiaramente può ipotizzarlo come si fa a risolvere questo discorso bisogna andare nel pennello brush vuol dire pennello e visto che qui vogliamo togliere dobbiamo fare il subtract questo perché vogliamo togliere l'influenza dell'osso frontale mettiamo uno strength forte in modo tale che qui se andiamo a pennellare vedete che pennellando ci accertiamo che diventi completamente blu ricordiamo di farlo anche dall'altra parte vedete che non era fatto ecco questo è uno dei problemi dei difetti che fanno le persone nuove quando si occupano di queste cose perché non si accorgono che devono pitturare anche ciò che non si vede qui bisogna pitturare tutto perché altrimenti gli effetti possono essere brutti andiamo a vedere l'effetto invece dell'osso dorsale quindi clicchiamo qua osso dorsale e qui abbiamo una piccola sorpresa ci saremmo aspettati che l'osso dorsale fosse rosso ovunque e in effetti non è così ci sono le parti gialle in effetti avevamo visto che quando girava questo osso storceva di più la parte centrale e lasciava un pochino più innocua l'altra parte e allora dobbiamo andare questa volta non più a sottrarre ma ad aggiungere con una forza forte e facciamo ecco facciamo il pittamento è anche divertente sia da una parte che dall'altra ricordiamoci che dobbiamo fare tutte e due le parti ok questo funziona proprio esattamente come se fosse un pennello della realtà ok allora dopodiché controlliamo ancora che l'osso retro non abbia effetto in effetti qualcosa blu blu chiaro c'è quindi facciamo che andare subtract strength e forte ecco ci accertiamo comunque ecco perché meglio non avere rischi 7 torniamo questo e a questo punto proviamo a vedere di nuovo la parte retro andiamo in weight paint tutta rossa per questo osso retro l'osso d'orso mi sembra che sia abbastanza blu e l'osso frontale abbastanza blu diciamo che quindi per queste tre ossa diciamo abbiamo fatto tutto allora adesso che abbiamo fatto tutto il peso delle ossa ci facciamo il controllo quindi vediamo un po' andiamo in object mode controlliamo cliccando sul nostro armatura andiamo a vedere in pose mode se è vero che sta funzionando bene quindi clicchiamo su questo sicino centrale e proviamo a fare ry e vediamo che a questo punto in effetti sembra che si muova senza produrre difetti che è più o meno quello che ci aspettavamo proviamo anche a muovere quest'altro osso qua ry e vedremo che anche girandolo anche questo osso qua non produce più quei difetti che avevamo visto che erano dovute alla sbagliata pesatura ok qui magari possiamo anche metterli come stick così ecco come stick vedete che sono un pochino più umani ry e così possiamo vedere la nostra animazione ok ora ah no qui ricordiamoci sempre di fare la rotazione è giusta quindi la rotazione torna a y ry ecc ora facciamo ctrl z ctrl z torniamo sì però ctrl z troppo mettiamo sempre stick e tre osso ecco l'armatura qui potrebbe convenire prendere l'armatura e nascondere e metterla in un altro layer in montagna che non si veda soprattutto quando è così intrusiva questo si fa selezionando l'armatura in object mode e poi facendo move e poi due e sparisce vedete va nella modalità va in un altro in un altro layer questo è il layer della mesh e questo è il layer dell'armatura se vogliamo comunque vedere tutte e due anche se sono in due layer diversi basta fare shift e cliccare le due armature ok ora a lezione abbiamo visto a questo punto un dei primordi di animazione quindi abbiamo visto che si può agire su questi signori cioè su questa linea del tempo dove c'è una barra e qui ci sono tanti frame quindi si va dal frame 0 al frame ad esempio 250 per fare un'animazione dobbiamo sapere che ci sono circa 25-30 frame cioè immagini per ogni secondo quindi se vogliamo avere due secondi basta che mettiamo la fine a 50 così facciamo un'animazione di 50 frame che sono circa due secondi e poi però ci mettiamo il verde all'inizio possiamo anche metterlo qua all'inizio ci siamo sicuri oppure anche qua possiamo scrivere 1 e poi qui dobbiamo andare nella nostra modalità di animazione preferita che è quella pause mode e poi cosa facciamo memorizziamo le posizioni di queste tre ossa di queste tre ossa facendo i e poi facciamo di memorizzare la locazione e la rotazione di queste tre ossa quindi lock rot facendo in questo modo vedete che è cambiato colore quindi è comparso un fenomeno per cui lui si è registrato queste cose spostiamo verso un frame un pochino più alto e proviamo a cambiare la posizione quindi prendiamo questo osso facciamo RY lo rotiamo e poi questo qui RY lo rotiamo un po' ok e poi riselezioniamo le nostre ossa e facciamo I di nuovo per salvare la posizione di lock di posizione di rotazione abbiamo fatto un secondo una seconda keyframe allora lui praticamente cosa farà avendo questi tre frame vedete che passando dalla prima eccetera farà produrre quell'effetto di movimento cercando di far assumere agli oggetti tutte le posizioni intermedie poi andiamo ancora nella quarantesima e qui facciamo il finiamo quindi facciamo RY facciamo chiudere questo RY e facciamo chiudere questo questo qua ok e qui facciamo di nuovo I lock rotto e a questo punto abbiamo l'animazione che vedete che partendo da zero quindi se qui facciamo questo e facciamo il play vedrete il libro che fa che fa questi due giri eventualmente prendiamo ancora questo RY ok selezioniamo una posizione qua RY siamo magari un pochino più chiuso e poi inseriamo qua il lock rot perché mi sembra che non l'abbiamo preso ecco così mi sembra che si chiudi un pochino meglio ok quindi qui potete controllare tutti i vari keyframe e vedere come viene a questo punto la cosa più bella è quella di fare una allora qui innanzitutto selezioniamo soltanto le nostre mesh le ossa non si vedono più però l'effetto che vedete è quello ottenuto con le ossa che si stanno muovendo per ottenere un video da questa animazione qua è molto semplice diciamo semplice un parolone comunque andiamo nella modalità di rendering questa andiamo sotto dove dice come vogliamo renderla e noi la renderiamo in modalità H.264 che è una modalità tipica di resa dei film di piccoli video e mettiamo qua mettiamo libro libro video quindi a questo punto facendo così noi quando faremo il rendering di questo oggetto ci genererà un un punto avi fatto con tutte queste cose qua vedete che fa 24 film per secondo quindi avendo 50 sono circa due secondi come abbiamo detto per produrre il video a questo punto basta fare questa animation quindi render active scene clicco e vedete che lui praticamente prende e costruisce tutti i frame uno per ciascuno ecco quindi produce tutti i frame del movimento fino ad arrivare a 50 e ce li avrà messi praticamente sotto ctmp quindi noi a questo punto possiamo andare a vedere cosa c'è sotto ctmp vediamo in data vedete che abbiamo un libro video dall'1 al 50 sono 180k se lo apriamo vedete che abbiamo la nostra bellissima animazione e questo è praticamente quanto ci ci aspettavamo poi a lezione abbiamo visto quindi ci proviamo anche adesso vediamo se siamo più fortunate in questo video a provare a far uscire da questa da questo ci proviamo a vedere se riusciamo a fare una mesh e quindi esportare una mesh che abbia questa forma quindi usare proprio il rigging per produrre proprio delle mesh specifiche il che sarebbe notevole quindi per farlo cosa facciamo selezioniamo tutte e tre le nostre mesh quindi un, due, tre poi facciamo un file export e esportiamo il formato collada il formato collada ci accertiamo di usare i presets static magari anche come inclusione del materiale e andiamo a esportarlo sotto c tmp e lo chiamiamo libro video punto dae ok e proviamo adesso ad andare a vedere in second live o in open sim cosa esce vediamo incrociamo le dita ok direi che siamo stati anche fortunati quindi la mia diagnosi di riserva era giusta cioè che bisognava se rigare tutti i pezzi quindi noi infatti adesso lo faccio vedere effettivamente applaudiamo con Firestorm il modello libro video fatto adesso 94k se noi lo carichiamo vedete che qui ce lo fa vedere dall'alto e poi è effettivamente molto simile a come l'abbiamo progettato ok quindi per vederlo effettivamente questo libro cioè qui ci sono addirittura c'è anche addirittura un pezzo di texto quindi noi facciamo chiamiamo libro animato o rigato ok e poi vabbè vediamo se ci include le texte ma tanto non ci sono texture facciamo calculate weights and fees upload libro animato o rigato lo mettiamo qui in second life e direi che è entrato benino eccolo qua e quindi è venuto con il rigging che ci interessava adesso poi magari possiamo mettere dritto così insomma per come pensiamo che sia dritto e poi volendo se qui vogliamo aggiungere due cosine giusto per dargli un'idea lo shininess possiamo mettere high ecco e poi possiamo addirittura a metterci il bumpiness giusto per metterci un bumpiness un pochino ecco questa cosa qua e quindi riusciamo a ottenere già degli effetti vabbè adesso qui non è proprio una copertina di un libro è un po' diciamo un po' strano però comunque l'idea che mi interessava farvi vedere è questa ecco se voi voleste animare allora qui una cosa del genere conviene farla imprim ve lo dico se qualcuno volesse animare questa cosa però se proprio voleste tenerla come ehm ah qui forse se volendo si potrebbero ci sono delle piccole imperfezioni perché da rotondamento quindi probabilmente mi sa che bisognava migliorare meglio un po' il weight painting però insomma bisogna proprio andare a vedere il filo nell'uovo vedere queste cose qua però insomma alcuni lo fanno e quindi il weight painting di questa cosa va probabilmente migliorata dicevo ci sono dei sistemi di animazione di mesh che si limitano semplicemente a far vedere in successione delle mesh c'è la stessa mesh questa viene fatta vedere progressivamente in modo tale da dare l'illusione del movimento quindi non si prenderanno tutte le 50 frame che abbiamo fatto in in blender però se ne prenderanno un po' e comunque anche se con life open sim è in grado di produrre un po' di frame intermedi quindi ne basteranno probabilmente 5 o 6 comunque qui la cosa importante che volevo appunto farvi capire era l'effetto del weight painting e direi che mi sembra che l'abbiamo visto e con questo ci vediamo la prossima lezione buonasera